ciao a tutti e a tutte bentornati bentornati sul mio canale allora praticamente oggi vi faccio vedere un po il mio profilo instagram il mio secondo e adesso vi faccio vedere un po le foto che ho messo sul mio profilo infatti seguitemi su instagram mi chiamo asia bianca 832 o guberti 33 e cominciamo il tour allora come prima foto ho messo questa che sono con tutti e quattro i libri di lion che c'è anche il quinto che poi farò anche con la foto se vi ricordo poi qua ero con le altre cuffie che c'è mio padre accanto adesso che sta benissimo guarda me le avevano per regalate tu avevi ancora quelle vecchie praticamente poi vado un po piano ma questa è la foto che ho messo sul mio profilo qui su youtube che ho fatto un po paura pure poi qui ho fatto diversi disegni tra cui questo che sarebbe cosa potrebbe andare storto che vi consiglio di andarlo a vedere poi ho fatto anche questo video che ha raggiunto 10.000,2 mila visualizzazioni e ho fatto anche quest'altro che l'ho fatto durante l'estate e poi qua c'è un'immagine avevo appena messo la descrizione del mio del mio canale e qui c'è mio nonno guarda un po calma mi consiglio di andare a vedere anche questi video qua che vi sto mostrando adesso che questo l'ho fatto con passione e sono riuscito a fotografare un tuono no così lo perdiamo eh ma cos'è com'è quindi non è piccante non era tanto vulcano no allora è accettabile gli ingredienti noè noè nooo l'immagine che sta non è piccante è la piccante ragazzi mi sa che era piccante e il bellozzo di latte via o pare o latte o pare o latte l'avevo detto di non farlo beh la faccio brava praticamente poi si è scattata la lingua poi qui ho fatto un altro video che l'ho trovato sul canale è andato a volerlo vedere poi ah qua ci sono io che avevo fatto diverse foto con mia madre è anche parecchio stanca quindi perdonatemi poi qua è il video di dove abito e qua ero su un server multiplayer che lasciamo stare ok qua poi avevo messo questa cosa qua come vedete ho fatto diversi post tra cui ho fatto anche questo non mi è venuto troppo bene devo dire ma mi è venuto come capita in realtà ah ecco l'ultimo libro di Lion che vi consiglio vivamente di andarlo a leggere perché è bellissimo e qui c'è per chi non lo conosce c'è il diario di Giorgio su come su cosa gli è successo diciamo per chi se lo chiede può andarlo a vedere qui ho ah qua è un regalo che mi hanno fatto a Natale che sarebbe il tablet che adesso in questo momento è dentro l'anzaino poi qua c'è il video di Spider-Man che vi consiglio anche quello di andarlo a vedere e qui c'è il disegno del diciamo la copertina del film con cui hanno fatto l'ultimo qui ci sono io stanca morta qua c'è un rel e questo è quello che ho regalato alla mia classe e questo sono io un po' tollerante l'ultimo video che ho fatto era questo e poi ci sono io che ho compiuto i 19 anni e questo è il mio potoprofilo che l'ho cambiata appena pochi minuti fa direi che può costare allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se anche voi se anche voi conoscevate il mio profilo Instagram o se conoscete anche l'altro per oggi è tutto da Asa Bianchi out